Si sta concludendo la Green Food Week che è una settimana di mobilitazione che vede coinvolte centinaia di comuni del nostro paese nel contesto di un'iniziativa che è coordinata da Food Insider ma che nasce in realtà da una prima sperimentazione del comune di Fano insieme alla collaborazione dell'autorità sanitaria territoriale degli anni scorsi e che propone sostanzialmente all'interno delle scuole dei menù con prodotti alimentari che sono sostenibili da un punto di vista ambientale e che ovviamente rispondono anche ad alcune esigenze che sono di natura educativa non solo alimentare ma anche dentro un ambito appunto di progetto didattico educativo. Il comune di Fano in questi giorni sta proponendo ogni giorno circa 2000 pasti con queste caratteristiche e lo sta facendo coordinandosi con altre decine di comuni marchigiani e di centinaia di comuni italiani. È un'iniziativa che ovviamente ha la capacità di proiettare ulteriormente la nostra città e le eccellenze del suo servizio di refezione a livello nazionale. Ricordiamo che anche recentemente il comune di Fano è stato riconformato come miglior menù d'Italia e in questo contesto proviamo a sensibilizzare tutte le amministrazioni comunali del nostro paese rispetto a un investimento culturale oltre che educativo che in questi anni il comune di Fano ha fatto e che ci sta portando appunto a garantire non solo menù di qualità ma anche a costruire percorsi ed educazione alimentare che coinvolgono non solo le bambine e i bambini ma anche le loro famiglie quindi in realtà migliaia di cittadini. Per questa Green Food Week abbiamo deciso di sposare con il comune di Fano il cambio di tutta la settimana, di tutta l'intera settimana e usare ingredienti sostenibili. Quest'anno è l'anno del miglio quindi noi abbiamo avuto due preparazioni in questa settimana abbiamo fatto una torta con mele miglio molto apprezzata dai bambini e poi abbiamo fatto ieri una vellutata di zucca e verdure con il miglio sempre, polpettina di verdura e insalata mista colorata visto che era anche il giorno del carnevale. Oggi chiudiamo con i passatelli che fanno a mano le nostre cuoche.